Sindaco, come ho promesso agli abitanti di Carbonara, dopo il buongiorno Crotone, avevo detto che sarei venuto da lei per capire qual è la situazione e se la notizia che è stata data in merito ai lavori che dovrebbero iniziare è una notizia che risponde al vero. Assolutamente sì, guardi, è stata espletata la gara, c'è la ditta che ha vinto e quindi farà i lavori. Al massimo, all'inizio della prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori. Quindi ci sono delle formalità da espletare ed è l'unico motivo per il quale ancora i lavori non sono iniziati. Lì, ripeto, è tutto a posto, a brevissimo inizieranno i lavori. Tenendo conto che quella è una zona veramente impraticabile per le strade, quindi credo che sia arrivato il momento di avere attenzione per loro. Guardi, noi stiamo procedendo dai quartieri con maggiore criticità. Abbiamo fatto tutto il quartiere Gesù, resta la via principale di quella via, ma aspettiamo che completino i lavori Enel e la società che sta portando la fibra. Il prossimo quartiere sarà contrato a Carbonara, quindi, ripeto, abbiamo già espletato tutto, ci sono solo alcune formalità da fare. Quindi possiamo tranquillizzare i cittadini di Carbonara? Assolutamente sì, guardi, io da subito, da quando mi sono insediato, ero in contatto con il signor Garà, che poi purtroppo è prematuramente scomparso. È un impegno che avevo preso e chiedo semplicemente di pazientare altri pochi giorni.